Lo sviluppo dei trasporti nella provincia di Siracusa. Connettiamo il futuro, trasporti e sviluppo. Il tema dell'undicesimo congresso provinciale Filt CGL che ha preso il via stamane nella sala dell'hotel Relax. Hanno partecipato ai lavori il segretario Filt CGL Siracusa, Vera Uccello, con gli interventi del segretario generale CGL Sicilia, Franco Spanò, il segretario generale CGL Siracusa, Roberto Losi, infine il segretario nazionale Filt CGL, Michele De Rose. I temi che trattiamo sono l'attività legata al trasporto, alle infrastrutture che non ci sono nel nostro territorio, i temi che riguardano i lavoratori in senso stretto, l'applicazione del contratto, dei diritti dei lavoratori, le applicazioni e le irregolarità da parte delle imprese, l'illegalità e la mancanza di sicurezza nel trasporto merci, nella logistica, temi che sono del mondo del lavoro, degli appalti ferroviari, lavoratori che subiscono il ricatto occupazionale legato agli appalti al massimo ribasso, lavoratori che hanno diritto di avere un sindacato che li segua, tuteli i propri diritti e l'attività effettiva che svolgono tutti i giorni.